Quest'anno il tema della fiera è Sustainability Driven Innovation, che effettivamente è il nostro DNA. Ogni giorno noi lavoriamo per essere più riciclabili, più dematerializzati, cioè utilizzare sempre meno materia, pensare alle minori emissioni tossiche e anche alla durata estetica della cucina. Questa è New Logica System ed è stata personalizzata con molti lavori artigianali, come l'intarsio su vetro, che è visibile su queste ante qua. L'ergonomia di New Logica System la potete vedere perché si può avere tutto veramente a portata di mano ed è possibile tutto nasconderlo in un attimo. O se si vuole lavorare all'interno della cucina si può semplicemente abbassando l'anta e aprendo tutto il pensile avere tutto a disposizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.